Vogliamo dirlo, perché insomma io ho trovato in te Jimmy proprio anche una persona che crede nel voler valorizzare i ragazzi con talento e quindi insieme a James con il quale è partito tutto, Vox Generation, vogliamo allargare la community di Vox Generation anche su Padova e quindi creare una community padovana guidata da te Jimmy, quindi io poi continuerò chiaramente a supervisionare il tutto per far sì che i valori di Vox Generation siano sempre comuni a tutti, nel senso appunto di dar voce alle nuove generazioni con un linguaggio anche sempre di controproposta alle tante canzoni che girano adesso e quindi sono molto felice di questa grande opportunità che può nascere insieme. E allora lo posso dire davanti qui alle telecamere e alla radio di Ok Musica, le frequenze di Ok Musica, che se sei un ragazzo che sei alle scuole superiori e sei appassionato di musica, fai musica, scrivi canzoni, beh contattami perché così avremo modo di farti conoscere e farti salire su un palco così importante di Vox Generation e ripetiamo, lo abbiamo detto anche prima, è tutto quanto gratuito. È tutto gratuito, infatti c'è un grande lavoro dietro per dare l'opportunità ai ragazzi di esprimersi e essere seguiti in un modo completamente gratuito per loro e per noi veramente è una missione questa, cioè noi vogliamo far partire una controproposta artistica che continui a espandersi, quindi da Verona arriviamo a Padova e ci sono tante altre novità che sicuramente continueranno ad arrivare. Quindi tutti i ragazzi delle scuole superiori appassionati di musica, che fanno musica, scrivono canzoni, beh contattateci, contattate la pagina di Vox Generation oppure contattatemi direttamente su Instagram che vi daremo questa grandissima, enorme possibilità.